Cibo povero e sano, i legumi presentano una varietà straordinaria di forme e di sapori. Per tutto il weekend degustazioni, percorsi didattici, convegni e bancarelle saranno dedicati ai legumi, alle loro proprietà nutrizionali e al loro ricco potenziale gastronomico. Leguminosa è un evento organizzato dall'Associazione Slow Food in collaborazione col Comune di Napoli, con la Regione Campania, col Parco Nazionale del Cilento e con l'Anci Campania. I legumi richiedono tempi di preparazione più lunghi e nella società della velocità in cui viviamo ci sembra impossibile poter dedicare tanto tempo a prepararci un piatto di legumi. I legumi non sono solo dal punto di vista nutrizionale ma anche dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista economico il simbolo di una svolta di cui abbiamo bisogno non solo nella nostra dieta. Occorre ovviamente fare educazione, occorre rimettere nelle mani dei cittadini quegli strumenti di conoscenza che possano permettere scelte più consapevoli. Banalmente, se uno sapesse che a mangiare meno carne, più legumi, si risparmia tante malattie, tante medicine e oltretutto fa anche del bene alla natura, alla biodiversità, al paesaggio, all'ambiente, probabilmente quel tempo che oggi dice di non trovare per dedicarlo a chissà che cosa riuscirebbe a trovarlo. Sotto la galleria Umberto I sono allestiti i banchi di 40 produttori di legumi, soprattutto campani, fino alle 21 di sabato e fino alle 19 di domenica. Al centro della galleria ci saranno un'enoteca, un'olioteca e uno spazio dedicato alla birra curati da Slow Food Campania. Fra gli scopi dell'evento la valorizzazione dei prodotti genuini del territorio e l'educazione a un'alimentazione più consapevole e più sana. Si riparte dalla terra, dall'agricoltura, dai produttori, dai consumatori, la qualità, dimostrare che questa non è solo, non è stata solo la terra dei fuochi, ma la terra del fuoco, della passione, le radici, della qualità. Mi piace pensare che Slow Food Campania e Italia abbiano scelto proprio Napoli, questo luogo simbolico per iniziare un percorso importante di cambiamento. Completano l'iniziativa i laboratori della terra e i laboratori del busto, col contributo di alcuni famosi chef. Il programma completo su www.comune.napoli.it Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.